Si terrà oggi all'ospedale San Salvatore dell'Aquila l'autopsia sul corpo del piccolo Tommaso. Il bambino di 4 anni è rimasto ucciso nel tragico incidente accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso nella scuola dell'infanzia di Pile, frazione del comune, capoluogo di regione. Tommaso è investito da una Passat con a bordo un bambino di 12 anni, parcheggiata da una mamma di 38 di origini bulgare, scese per riprendere i due gemellini, partita in discesa per cause e in corso di accertamento che ha colpito a morte Tommaso, ferendo altri cinque piccoli. Bimbi ricoverati a Roma e all'Aquila che non sono però in pericolo di vita. Ad effettuare l'esame alla presenza dei legali delle famiglie coinvolte e dei rappresentanti delle varie istituzioni, l'anatomo patologo Giuseppe Calvisi. Ieri era stato fatto un tentativo per evitare l'esame autoptico. Secondo quanto si è appreso dopo l'autopsia, la salma del piccolo sarà riconsegnata alla famiglia che poi fisserà la data dei funerali. Intanto proseguono a ritmo serrato le indagini condotte dalla squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Si è in attesa della fissazione dell'interrogatorio della giovane mamma indagata per omicidio stradale. Stamattina è stata affidata la perizia sull'automobile, tesa a capire meglio la dinamica e le cause, e in particolare come la Passat si sia sfrenata. Un guasto, negligenza della donna oppure responsabilità del figlio 12enne. La famiglia Ditto Maso chiede riservatezza. Noi ci sentiamo tutelati dalla Procura dell'Aquila. Chiediamo, preghiamo tutti di portare il massimo rispetto a questa famiglia così duramente colpita. Così l'avvocato Tommaso Colella, legale dei genitori del piccolo morto nella tragedia dell'asilo primo maggio. L'avvocato prosegue spiegando che la famiglia non vuole rapporti con i mezzi di comunicazione. Non vogliono essere ripresi. Capiamo, ha continuato Colella, che tutti lavorano, ma cerchiamo di preservare la loro vita.